eccoci partiti ciao a tutti ragazzi dovreste vedere in questo momento la schermata stiamo per iniziare e sentire ovviamente la mia voce se è tutto a posto, se è così cortesemente scrivete un ok in chat così poi andiamo ad iniziare Emanuela è suo il primo ok, intanto saluto Massimiliano, Edo Anto, Marco, Mohamed Olindo e tutti gli altri amici, ecco che arrivano gli altri ok, ora allora possiamo andare ad iniziare allora prepariamoci eccoci pronti ad iniziare ciao a tutti, bentornati sul canale youtube di Associazione Culturale Maggiolina, anche questa sera siamo in diretta per farci reciproca compagnia e parleremo come sempre su questo canale di computer, oggi è il primo di maggio venerdì primo di maggio 2020 e la diretta è sempre alle 18 come tutte le sere in questo periodo, bene fatemi tornare a dare un'occhiata alla chat vedo ancora scorrere i vostri ok grazie, grazie infinite perché ci sono molto utili e di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Microsoft Word Online proseguiamo il nostro discorso e vediamo come inserire e gestire le immagini dentro a questo strumento devo dire che lo provavo poco fa mentre prima, poco prima di entrare in diretta per vedere le differenze dal programma Word realmente installato nel nostro computer e sono parecchie questa parte delle immagini mi delude un po' evidentemente online non si poteva fare di meglio adesso vediamo quello che è possibile fare vado intanto a tracciare la linea esatto, qualcuno mi diceva la linea stavo pensando alla linea telefonica invece no, la linea telefonica è a posto vado a tracciare la linea per le domande, eccola qua e adesso partiamo con il nostro discorso bene, stavo controllando ancora la linea telefonica tutto a posto eccoci, allora rimpicciolisco questo browser desidero utilizzare come sempre Edge visto che utilizziamo un prodotto Microsoft desidero utilizzare il browser Microsoft per rendere più compatibili e facili le cose apro la mia home page di Office ora arriviamo intanto fatemi ringraziare le super chat molti di voi hanno già voluto fare la super chat mentre aspettavamo l'inizio della diretta grazie infinite ragazzi perché per noi è un sostegno importantissimo grazie, grazie mille eccoci qua, allora l'ultimo file che ho usato è Gatti Preziosi il nostro file di esempio uno dei nostri file di esempio usiamo ancora questo così possiamo fare degli esperimenti ecco che si apre e avremo a disposizione il Word Online bene, questo file si sviluppa su più pagine quindi se io rimpicciolisco un po' la mia schermata e faccio scorrere vedo che ci sono varie pagine questa è l'interruzione di pagine ringrazio Enzo intanto per l'uso del super sticker grazie, grazie infinite Enzo per noi è importantissimo ora andiamo ad inserire un'immagine allora intanto tengo ancora grande la pagina poi vedremo di rimpicciolirla per vedere più in piccolo la situazione innanzitutto per inserire un'immagine io vado sulla scheda dei comandi inserisci perché se devo inserire qualcosa inserisci è quella cosa che mi sembra più ovvia più utile a questo scopo altra cosa che mi interessa e mi interessa particolarmente qui in Word Online è la posizione del cursore perché la posizione del cursore determina il punto di inserimento dell'oggetto in questo caso dell'immagine che desidero lavorare per cui la vado a mettere qui a metà qui dopo ciotola ecco qui il mio cursore e l'immagine apparirà qui ok possiamo inserire vediamo varie cose e possiamo inserire più cose di quelle che vediamo elencate qui le proveremo un po' tutte e proveremo ad aggiungere anche delle altre cose ora ci dedichiamo alle immagini le immagini possono essere inserite con questi due comandi immagine o immagine online qual è la differenza tra questi due comandi immagine è inteso un file immagine mio già presente nel mio computer che posso andare a recuperare da qualche parte quindi di mia disponibilità dal mio computer immagini online immagini dalla nuvola dalla rete internet che non carico dal mio computer proviamo quelle online non le ho ancora provate io qui su questa versione proviamo premo immagini online e vedo che posso caricare da one drive la nuvola microsoft quindi immagini che io ho già sulla nuvola e quindi un risparmio di tempo e presumibilmente mie la nuvola è mia se c'è dentro un'immagine lì sono stato io a mettercela e quindi evidentemente può essere mia ho immagini da bing motore di ricerca microsoft e quindi vado a premere su bing e ora scelgo un'immagine qui ci sono varie categorie e posso scegliere una categoria voglio mettere un fiore quindi potrei andare in fiori fiori fiore se premo premiamo così mi rendo conto di cosa c'è ecco qua che ci sono mille mille fiori però io cerco un fiore specifico cerco un iris voglio vedere se me lo trova quindi ho digitato iris premo invio per fare la ricerca ed eccolo qua quindi questo è un iris e ne scelgo uno e ci siamo allora notiamo quello che c'è scritto qua in basso spero che si veda ma ve lo leggo è tua responsabilità rispettare i diritti degli altri incluso il copyright quindi le immagini che acquisisco online devo rendermi conto che sono soggette a diritti d'autore quindi devo essere come si dice devo essere bravo a usare immagini libere da diritti d'autore qui c'è il filtro acceso cioè c'è il baffetto dove dice solo creative commons cioè immagini libere da diritti d'autore se io tolgo se io tolgo il baffetto ne trovo molte di più però alcune di queste immagini non sono libere da diritti d'autore io vado a mettere questa fermo restando che se devo fare una pubblicazione che andrà ad un vasto pubblico anche su internet ok devo essere proprio molto molto attento per questa cosa e potrebbe valere la pena di prendere e andarsi fare una foto a questo fiore perché così l'abbiamo fatta noi e lì non abbiamo più problemi l'attenzione al copyright è sempre più alta ultimamente nel web e lo sarà sempre di più per cui facciamo massima attenzione quindi io adesso prendo un'immagine creative commons ne scelgo una dico questa e la inserisco all'interno della pagina la inserisco all'interno della pagina viene inserita ora è il momento di rimpicciolire la pagina così vediamo meglio viene inserita tra questo capitolo dove dove io ho messo qui c'è scritto ciotola qui in piccolino dove c'è il mio cursore lampeggiante ve lo faccio vedere vediamo se si vede eccolo qui ciotola dove io avevo posizionato il cursore c'è l'immagine se io mi posiziono di nuovo qui e vado a capo l'immagine va sotto ciotola eccola qui perché la sua posizione viene gestita dalla posizione del cursore sulla versione online ancora di più che nella versione offline quella del come dire quella che ho installato nel mio computer ok allora seleziono l'immagine seleziono il testo seleziono l'immagine seleziono il testo rendiamoci conto di questa cosa testo scritto e immagine sono due cose diverse cioè l'immagine viene immersa nel testo come se il testo fosse un liquido all'interno di un contenitore l'immagine è un corpo estraneo quindi quando io devo lavorarla la devo toccare per selezionarla mi accorgo di averla toccata perché ci sono questi pallini che mi dicono che l'immagine è selezionata ok ora questa la tolgo e per cancellarla premo canc sulla mia tastiera tasto canc e l'immagine se ne va e siamo a posto ok inseriamo un'altra immagine questa volta la prendo dal mio computer così l'immagine è mia e siamo a posto posso pubblicarla farmi ciò che voglio vado su immagine scegli il file perché lo devo scegliere all'interno del mio computer premo e mi prendo rubino questo racconto parla di un gatto che si chiama rubino quindi prendo il mio rubino vero quando era molto piccolo ho selezionato l'immagine dico inserisci quindi questa la cerco all'interno del mio computer ora non mi avete visto cercare perché il mio computer ha aperto già la finestra dove c'era l'immagine ma se io vado in immagini qui vedo altre immagini e tra queste eccola qua ce n'è un'altra tra queste io posso andare a scegliere quella che voglio inserisco il mio rubino e dico inserisci di nuovo l'immagine viene messa all'interno della pagina nella stessa posizione del cursore come prima il mio cursore era ancora lì e l'immagine è ancora qua ci ha impiegato un po' di più perché questa immagine ha dovuto essere spedita sul web dalla linea telefonica quindi si è dovuta caricare ok vediamo ora che cosa possiamo fare con questa immagine posso innanzitutto gestirne le dimensioni quindi per gestirne le dimensioni io ho questi comandi questi qui altezza larghezza quindi questa è la misura in centimetri e posso variando questa misura variare la misura dell'immagine questo quadrato dove c'è scritto blocca proporzioni serve a far sì che se io la stringo cioè se io la abbasso diciamo in altezza si restringa anche in larghezza in modo che il gatto rimanga di questo aspetto che l'immagine non venga sformata quindi se io accendo questa casellina cambiando nell'altezza ora vado ad abbassarla ecco che abbasso l'altezza ma si restringe anche in larghezza perché le proporzioni vengono mantenute lo facciamo da qua invece di usare questi comandi andiamo qui tiro e in questo caso però l'immagine si è sformata perché si è sformata se io avevo il blocca proporzioni pensavo che non si sarebbe sformata facciamo annulla vedete vi ricordate che per fare annulla usavamo la freccia indietro però non c'è qui la freccia indietro o meglio è qui in home eccola questa è la nostra freccia indietro però io voglio rimanere su immagine voglio tornare indietro lo stesso abbiamo imparato nei video precedenti che control ctrl z quindi sto premendo control do un colpetto sulla z annulla l'ultima operazione quindi anche se non sono andato a premere quel pulsante con la mia tastiera ho ottenuto il risultato allora dicevamo io ho allargato l'immagine ma si è sformata comunque sì perché io ho agito da questa maniglia se uso le maniglie per cambiare le dimensioni devo volendo mantenere le proporzioni usare una maniglia diagonale perché la maniglia diagonale mantiene le proporzioni dell'immagine e quindi posso gestirla bene senza rovinarla tra virgolette magari la voglio sformare appositamente quindi ci sta uso uno degli spazi centrali ecco che sformo la mia immagine può essere una cosa interessante per fare qualche effetto grafico ci sta ma se voglio mantenere le proporzioni gli angoli ora control z per una prima modifica per la seconda modifica e la mia immagine torna giusta voglio provare a ritagliarla vediamo cosa mi dice quando chiedo di ritagliare ritaglia o opzioni di ritaglio provo a dire ritaglia per dire ritaglia scelgo in questo caso vado a togliere un po' di nero attorno per cui uso queste manigliette particolari per gestirla le manigliette chiamiamo le manigliette così in diagonale cambiano entrambe le direzioni sia l'altezza che la larghezza così mi piace e ora penso di dover premere di nuovo su ritaglio provo sì no non è apparso allora proviamo di nuovo ritaglia sì questa è la mia immagine allora due volte all'interno neanche premo invio no l'ho cancellata allora control z questa è la mia immagine beh effettivamente ritagliata facciamo questa è l'immagine completa riproviamo ritaglia abbassiamola da qui abbassiamola da qui premo ritaglio no che non la vedo ritagliata ecco c'è solo da aspettare dato che si lavora online ci vuole un po' di tempo affinché il computer faccia il lavoro mi pareva di fare tutto giusto torniamo su immagine immagine le opzioni di ritaglio cosa sono vediamo opzioni di ritaglio ah ok qui posso regolare al millimetro le opzioni cambiando le misure vabbè mi interessa fino a un certo punto perché mi piace di più usare le maniglie va bene questa è una cosa l'altra cosa che posso fare alla mia immagine è ruotarla qui c'è questo segno circolare mi permette di prenderlo e ruotare l'immagine a piacere quindi quando la lascio viene lasciata ruotata ecco qui ci vuole sempre un attimo perché si aggiorni non è tanto bello non ho voglia di addrizzarla o meglio potrei addrizzarla sempre da qui ma faccio prima premere ctrl z per cui ctrl z e rimetto a posto la mia immagine qui c'è un comando ruota 90 gradi ruota destra di 90 gradi avanti indietro di 90 gradi capovolgi verticalmente capovolgi orizzontalmente proviamo questo può essere interessante vediamo cosa appare dopo che lo ho fatto eccolo qua cambio l'immagine proprio viene capovolta in questo senso e ha un suo perché perché a volte un'immagine cambia quasi completamente infatti lo vediamo sotto una luce diversa ci sono delle opzioni opzioni di rotazione anche qui possiamo andare a gestire al millimetro la rotazione ma anche in questo caso preferisco farlo dalla maniglietta ok altra cosa particolare o meglio cosa particolare e bella in questo caso è lo stile dell'immagine noi abbiamo queste immagini qui così ma se io volessi darle un aspetto diverso questo premo vediamo cosa succede dopo qualche istante eccola qua la mia immagine assume un aspetto diverso cambia anche il modo in cui si presenta la pagina cioè effettivamente è bello cambiamo allora selezionato l'immagine vado nel menu immagine cambio stile alla mia immagine prendiamo questo è un classico per me nel senso che lo guardo spesso ed eccolo qua e anche questo cambia l'immagine cambia il modo in cui si presenta la pagina non male lo tolgo possiamo toglierli vediamo seleziono immagine voglio tornare all'origine non è detto che ci sia nessuno stile cancella stile provo ancora eccolo qua perfetto tornata normale ok adesso vediamo alla parte più importante parte più importante che qui online non funziona tanto bene secondo me oppure proveremo ad aspettare del tempo per gestire magari ero io a non usarlo bene allora rimpicciolisco ulteriormente la pagina a me adesso interessa più l'immagine del testo intanto la rimpicciolisco anche un po' devo sforzarmi di vedere il punto giusto eccolo perché adesso lavoriamo nel piccolo allora la mia immagine magari un po' più grande ci aiuta come si comporta rispetto al testo si comporta come Mosè con le acque metto l'immagine e il testo si separa completamente o sta sopra o sta sotto perché l'immagine fa da spartiacque apre tutto quanto posso cambiare il modo in cui l'immagine interagisce con il testo qui da disposizione testo premo e vedo che questa disposizione testo è in linea con il testo quindi vuol dire che lei sta lì dove io la metto all'interno del cursore e poi si fa spazio dato che è alta posso andare a scegliere un incorniciato a sinistra provo premo e vedo cosa succede diamogli un attimo di tempo perché l'immagine si è spostata a sinistra però io avrei voluto vedere che questo testo scorreva a sinistra la cosa non avviene per questo mi dicevo ma più di tanto non mi pare che funzioni spostiamo l'immagine per spostare l'immagine ho bisogno che sia più in grande allora guardiamo questa cosa qui un'immagine può essere spostata premo trascino e quando trascino allora ecco che ricomincio quando trascino si vede eccolo qui un cursore che mi segue in varie posizioni del testo lo metto qui dove c'è qui si accorgerà lì sotto c'è il cursore lascio andare e la mia immagine si posiziona lì più o meno e si stacca fa di nuovo da diciamo da Mosè nelle acque perché l'immagine è qui si accorgerà poi è alta e quindi l'altra parte di testo si sposta saluto Augusto lo ringrazio per lo super sticker grazie grazie infinite Augusto allora torniamo a selezionarla immagine disposizione testo proviamo l'incorniciato a destra vediamo se fa un qualcosa che mi piace ecco l'incorniciato a destra fa questo effetto qua questo il testo le gira attorno quindi non viene più spezzata ma il testo le gira attorno e quindi fa questo effetto che è simpatico dico che non mi piace tanto qui perché qui lo fa solo in alto se io lo prendo questa immagine del gatto e la trascino da un'altra parte lei torna di nuovo in linea con il testo e se io vado a dirgli immagine disposizione testo incorniciato a destra nel senso che io la vorrei qui incorniciata non me lo fa me lo fa ma sempre là in alto non so se sono io che non lo so usare bene ma nel word normale è molto più efficace questa disposizione del testo però va bene questo è quello online va bene lo stesso incorniciato a sinistra eccolo di qua quindi il testo ora dovrebbe girare attorno all'immagine qui neanche tanto bene eccolo qua ora è arrivato ok lo vediamo è apprezzabile sono abituato a una qualità migliore di questa cosa addirittura in quello che ho comprato ed è presente nel mio computer posso gestire lo spazio cioè quanto gira attorno all'immagine il testo posso togliere questo nero che magari non mi piace fare il trasparente e vabbè insomma questo è quello gratuito e ci accontentiamo ok guardavo se c'era qualche altra opzione beh le altre due opzioni sono davanti al testo quindi l'immagine copre il testo e di conseguenza non si vede più quello che c'è scritto dietro o dietro al testo l'immagine passa dietro e le scritte vanno sopra il dietro al testo sarebbe da fare alla fine allora il discorso è questo disposizione io dico incorniciato in linea con il testo perché alla fine vediamo che è quello posiziono l'immagine facciamo così facciamo un effetto di questo genere sarebbe bello se l'immagine si potesse fare un po' sbiadita non abbiamo un'immagine adeguata per questo comunque un'immagine bella grande eccola qua e diciamo dietro al testo dietro al testo diamogli un attimo eccolo qua il testo passa sopra all'immagine certo non lo si legge se noi lo selezioniamo e diciamo testo in bianco vediamo testo in bianco eccolo qua questo è l'effetto servirebbe un'immagine dai toni sfumati più in filigrana si chiama allora sarebbe più bello qui questo effetto non abbiamo la possibilità di farlo mentre invece su quell'altro quello più completo quello nel nostro computer assolutamente sì però va bene insomma mi accontento di questo mi permette di illustrare di gestire le immagini mi piace molto questa cosa di poter cambiare le impostazioni gli stili dell'immagine come in powerpoint e quant'altro perché è veramente è veramente bello ok la metto sopra o meglio la metto in linea con il testo alla fine è quello che funziona meglio ed ecco la nostra immagine col nostro testo questa è molto grande vediamo mettiamo questa e ci siamo quando un'immagine non mi piace più lo posso cancellare posso anche metterne più di una se io voglio posso mettere anche un'altra immagine quindi posiziono il cursore da un'altra parte qua e vado su inserisci immagine e prendiamo un altro gatto così sono due allora l'altro gatto ce l'ho qui in documenti questo inserisci e di nuovo ecco l'altro gatto lo rimpicciolisco un po' e posizionarlo sarà un po' più complicato qui vediamo vabbè riesco a posizionarlo solo qui vediamo se riesco a gestire l'allineamento da home centro pagina centro pagina questo non c'è andato allora vediamo centro pagina e centro pagina non riesco a gestirli a gestirli bene in questo caso non mi piace la gestione che fa con il testo ecco adesso ci sono riuscito come ho fatto sono andato qui col cursore ho premuto invio per staccare il testo in questo modo ho ottenuto questo effetto in sostanza il testo è andato a centro pagina molto più pratico sull'office offline quello nel computer ma va bene quindi qui abbiamo le immagini anche questa cambiamo lo stile immagine stile magari mettiamo lo stesso mi pareva questo questo ed eccolo qua l'altra l'ombra questo no quindi non è lo stesso stile vabbè comunque facciamo un altro tentativo se lo trovo al volo altrimenti ci teniamo questo questo mi piace di più anche se non è uguale eccolo questi stili sono molto belli comunque ok ragazzi per cui questa è la gestione delle immagini le immagini vengono viste un po' come oggetti quindi noi ci troveremo ad inserire anche altre cose all'interno della nostra della nostra pagina quindi gestiremo queste cose voglio provare subito ad inserire un emoji allora troviamoci un posto anzi facciamo così ma si troviamoci un posto qui dopo ciotola ingrandiamo voglio inserire un emoji vediamo cosa abbiamo a disposizione ah beh niente di particolare le varie faccine a disposizione ok posso ingrandirle se le seleziono poi vado in home e ingrandisco si ingrandiscono come carattere sì bello ok oppure posso inserire dei simboli quello l'abbiamo già visto qualcosa rispondendo alle domande simboli matematici beh però un cuore certo è venuto piccolino è questo cuore bisogna ingrandirlo di nuovo va bene anche lui si si ingrandisce oppure c'erano dei simboli matematici vediamo simboli euro lira yen eccetera o altri simboli e ci sono questi caratteri abbiamo visto questa cosa quando facevamo le maiuscole accentate ok ci teniamo i numeri di pagina l'intestazione piedipagina e altre cose per un altro momento in più vedremo anche i componenti aggiuntivi mentre invece la tabella l'abbiamo già vista e l'interruzione di pagina sarà sempre un argomento legato a numeri di pagina e quant'altro per cui per oggi con questo argomento diciamo ci fermiamo qui adesso traccio la riga sotto alle vostre domande e rispondiamo alle domande vediamo cosa cosa avete preparato per me allora torno indietro verso l'alto mi sforzerò di leggerle tutte senza saltarmi neanche accidentalmente allora intanto saluto Pasquale poi Nunzio chiede ciao Daniele da ieri sto provando a creare la firma digitale seguendo il video 94 senza esito un vero massacro che fare non ti posso aiutare Nunzio perché dovrei vedere quello che fai come lo fai le cose cambiano continuamente quindi non c'è un modo che possa che possa avere io per aiutarti devi solo provare leggere quello che avviene perché le cose ripeto sono in continua evoluzione quindi devi proprio leggere e fare i vari passaggi richiesti ciao Francesco ciao Jack poi Alessandro Roche Roche20 Giuseppe e Orazia vediamo cosa dice Orazia ho fatto la scansione di un documento l'ho salvato su Google Photo lo posso spostare in Drive grazie non credo che da Google Photo si possa spostare in Drive e lo devi caricare in Drive e poi toglierlo da Google Photo o scaricare da Google Photo poi ricaricare in Drive se la scansione è in formato JPEG sta meglio in Drive perché scusami sta meglio in foto perché una scansione di un documento qualsiasi scusate che ho fatto cadere la mia penna bella una scansione di un documento qualsiasi se fatta in un certo modo normalmente diventa un JPEG quindi è una immagine per cui è bene che stia in Google Photo diversamente su Google Drive occuperebbe spazio di solito si crea in Google Photo un album ve lo faccio vedere quindi vado qua prendo una nuova schermata vado in Google vado su le applicazioni di Google Google Photo se io scansiono un vabbè quindi non voglio grazie alle cose se io scansiono un documento non ho niente qui ma facciamo finta che sia un documento creo un album che vado a chiamare allora crea album che vado a chiamare scansioni o documenti scansioni aggiungi foto e poi vado ad aggiungere la foto del caso poniamo il caso che sia questa anche se non ho niente allo scopo e quella scansione va dentro lì e quindi in futuro quando io ho bisogno di vedere le scansioni vado su Google Photo anche col telefonino apro scansioni e sono lì io quando mi ricordo che sono bravo lo faccio con gli scontrini quindi se ho uno scontrino di un qualche elettrodomestico scansiono e diventa un'immagine diciamo che io la fotografo col telefonino va su Google Photo e ho un album che si chiama Garanzie e dentro lì ci sono tutte le garanzie degli elettrodomestici così alla bisogna vado lì e le trovo e sapete che gli scontrini si scoloriscono nel tempo quindi è un'idea su Google Photo non occupano spazio perché sono immagini allora poi ciao Nando Antonio Giuseppe li saluto Tiziano dice ciao Daniele si può inserire la firma digitale in Word Online puoi inserire una firma digitalizzata cioè tu firmi su un foglio di carta lo fotografi e poi vai e inserisci il tutto come se fosse un'immagine quindi io faccio così di solito firmo su un foglio bianco e poi inserisco come se fosse un'immagine e lo metto sotto al testo quindi dove siamo con questa cosa qui scelgo la posizione dico disposizione dietro al testo così dove c'è firma ci metto sotto la mia firma e stop si può fare così ora mi è impossibile fare la foto caricarla eccetera troppo complicato perché il mio telefono sta facendo dell'altro altrimenti è una cosa semplice nel senso che è una foto e si gestisce come una foto qualsiasi in definitiva allora poi vediamo cosa dice Alfredo è sempre prese quei file csv allora cercato aprire file csv con excel ma alla lezione 24 di excel il file è aperto con open office c'è una lezione che indica come importare con excel sì ma non mi ricordo il nome qual è per cui la nostra la nostra app maggiolina importare file oppure excel importare file e vi darà una risposta vediamo se c'è Sergio mi pare di averlo visto se ha voglia di trovarci questa cosa grazie infinite Sergio però la app scaricatevela cioè è a disposizione è gratis io ricevo un sacco di domande e passo un sacco di tempo a rispondere a cose che con la nostra app ognuno potrebbe fare da solo qual è il vantaggio scusate mi viene da sternutire diamo un attimo di pazienza ma tutto bene qual è il vantaggio di questa cosa che ve lo fate da soli vedete tanti più video perché magari ce ne sono due o tre che parlano dello stesso argomento e non dovete aspettare nessuno che vi risponda quindi abbiamo fatto questa app apposta non è infallibile però aiuta tanto scaricatela chi usa android è gratis ed è semplice da usare poi Nadia ciao Nadia Attilio buon primo maggio anche a te Attilio Lorenzo ciao Lorenzo grazie dei complimenti Vincenzo saluto anche Vincenzo Frank ciao sono nuovo grazie Daniele per quello che fai grazie a te Frank ben arrivato i nuovi gli vogliamo tanto bene perché sono nuove persone che arrivano grazie per aver scritto in chat allora Luigi anche agli altri vogliamo tanto bene perché ci fate veramente tanta compagnia Luigi dice Daniele se voglio inserire una pagina con un'immagine da mettere come sfondo faccio un esempio ho scelto ho scritto tutto il testo ma volevo mettere un'immagine sotto la scrittura come ad esempio i volantini va bene allora facciamo facciamo questa cosa devo avere un'immagine adeguata parliamo di Word Online quindi devo avere un'immagine adeguata nell'altro magari posso fare direttamente tutto in Word qui no però questa cosa qui che facciamo qui vale per tutti allora cancello un po' di questi testi che ho inserito perché non mi servono allora qui ho cancellato del testo accidentalmente prima allora facciamo ctrl z fino a tornare a una situazione migliore vediamo rimpicciolisco ctrl z sto ripetutamente facendo ctrl z per vedere fino a dove riesco a tornare indietro perché ho ecco avevo accidentalmente cancellato il testo torniamo indietro ancora perfetto ora cancello questo e sono a posto siccome Word Online salva automaticamente non potevo chiudere senza salvare dovevo per forza tornare indietro per riavere la mia situazione questa è la pagina di Rubino ci voglio mettere Rubino in fondo mi piacerebbe avere la pagina con sotto il gatto in parte abbiamo visto che quella lì non va bene prepariamo un'immagine quindi apro il mio Gimp un programma di gestione immagini qualsiasi Gimp è gratuito quindi lo facciamo lo facciamo lì sto guardando attorno perché ho perso il tappo della penna eccolo qua scusate ma mi dispiaceva averlo aperto allora ci siamo vado su file apri la nostra immagine è dentro documenti allora dunque document all'inglese e Rubino lo apro no quell'altro vediamo se arriva non si vede l'anteprima ma va bene lo stesso apro ok abbiamo visto che era troppo marcato il colore non si vedeva bene in sfondo posso andare a farlo più sfumato e qui ci sono vari modi adesso io prendo un bianco e quindi non sto a spiegare questa cosa perché l'abbiamo fatta tante volte nei vari programmi di Gimp e si può ottenere questo risultato in vari modi vediamo se riesco proprio ad avere un bianco ecco questo qua ok prendo il pennello abbasso un po' l'opacità del pennello non lo vedo l'opacità eccola qua e provo a farlo facciamo un pennello un po' più grande perché sennò ci vuole tutto il giorno a dipingerlo vediamo ok lo faccio un po' un po' più un po' più un po' più bianco in modo da poterlo mettere sotto al testo e che e che si veda facciamo l'effetto filigrana se do un'altra pennellata vediamo si dai così meglio un po' più un po' più bianco ancora ci siamo quasi fatto lo salvo file sovrascrivi quindi quell'immagine lì la trasformo così tanto ne ho tante di queste quindi mi va bene così l'immagine è stata fatta vado nel mio testo la posiziono qui all'inizio del capitolo quindi lì dove c'è quell'inizio lì del capitolo inserisci immagine scelgo l'immagine ecco il mio rubino sbiadito inserisci e lo trovo qui adesso arriverà eccolo qui regolo le dimensioni un po' più in grande vediamo così è il rubino più grande che posso avere andiamo ancora un po' così lo metto in centro pagina vediamo home centra nella pagina no più di così non va va bene così e gli dico dietro al testo immagine disposizione dietro al testo e questo è l'effetto che otteniamo in questo caso non è l'immagine adeguata servirebbe un'immagine migliore e forse serviva sbiadita ancora comunque questo è il concetto fatto con questo programma è un po' più difficile da gestire con il word normale posso spostarla posso dare un effetto filigrana e regolarlo di volta in volta però si fa così in definitiva posso anche averla più grande il nostro amico diceva come volantino vediamo se riesco a toccarla adesso quando è dietro al testo poi è un problema faccio così ctrl z rimpicciolisco l'immagine la ingrandisco molto di più posso anche sformarla sformiamola così facciamo facciamo tutto il in questo caso non ci riesco a fare più più di tanto non riesco a fare con con questo word con questo word online e dopo la metto dietro al testo vediamo se viene meglio non viene bene in questo caso secondo me vediamo no non 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 risulta bella insomma non lo farei online perché non non viene bene mentre con l'altro viene molto più facilmente ok andiamo avanti allora Luigi abbiamo visto Giovanni buonasera ciao Giovanni buonasera a te Roberto scusa quando sarà disponibile l'app ACM per il mondo Apple non ne ho idea perché ci vuole un sacco di tempo per farla e in questo momento siamo sempre in diretta e quindi non ho il tempo per farla per Apple però vedremo di fare anche quello allora ciao Luigi Highlanderview dice ciao Daniele per quanto riguarda OneDrive ho dovuto scaricare prima l'applicazione perché non era presente e poi ho fatto l'attivazione come spiegato bene nel video che hai fatto ok bene Luciano scusate il ritardo una piccola parte ha seguito il telefono ok Leo nel download del computer c'è solo quello che ho scaricato io e che posso cancellare senza fare danni o ci sono programmi per far funzionare il computer no nel download del computer quindi in questa cartella andiamo a cercare download se non hai fatto niente di strano di diverso che c'è solo quello che scarichi tu quella cartella lì è fatta apposta proprio per una gestione più facile quello che c'è dentro non serve a far funzionare il computer dipende da come l'ho usata nel tempo perché io potrei installare un programma anche in download però ne sarei consapevole quindi in linea di massima è giusto dire che qui puoi cancellare quello che vuoi questo è un fiore lo cancello e va via e siamo a posto questo è un file di Excel lo cancello e va via perché so che non mi interessa e non incide sul funzionamento del computer allora poi Luigi ma se porto l'immagine in altro in alto i paragrafi scendono di una pagina allora quel discorso lì dell'immagine sì dipende se la metto dietro al testo fa questo effetto qui se la metto in linea con il testo invece invece no vi faccio vedere velocemente allora apro il mio word questo quello sul mio computer apro gatti preziosi vediamo se me lo dà adesso perché lo sta usando online anche l'altro computer l'altro computer il browser in definitiva eccolo qua questo è il gatti preziosi come si vede qui rimpicciolisco troppo magari non così tanto e neanche così allora facciamo facciamo così quindi queste sono le mie pagine questa è la mia immagine io da qui la posso muovere con molta più facilità e la posso gestire nelle dimensioni ad esempio qui è troppo grande la posso rimpicciolire un po' vediamo eccola qua allora questa è la mia immagine la voglio fare grande tutta così trascino così trascino così ed ecco la mia immagine come volantino ora io ho voluto tenere il bordo ma se volendo potevo andare anche oltre il bordo in modo che l'immagine riempisse tutta la pagina del mio documento e fosse tutta dietro al testo eccola qua perché qui è dietro al testo e quindi questo viene bene certo l'immagine così non è particolarmente accattivante perché è sformata ma non è male verrebbe bene andiamo andiamo a vedere più in grande verrebbe bene tutto è avere lo sfondo adeguato per il testo oppure potrei cambiare anche il colore del testo abbiamo visto abbiamo visto prima qui si può fare si possono fare anche altre cose inseriamo un'altra immagine così la vediamo qua mi posiziono vado su inserisci immagine il comando è uguale vado a prendere vediamo questo documento prendiamo un'immagine diversa qui abbiamo più cose inserisco un'icona a disposizione nel senso che qui possiamo fare più cose un anello inserisco l'anello inserisci eccolo qua il mio anello lo ingrandisco eccolo questo anello ora può essere posizionato allora intanto con la scheda home posso dirgli a sinistra allora vediamo allinea al centro a sinistra ah perché devo cambiare qui l'allineamento questo sempre in linea questo ha l'incorniciato che è bello perché questo fa girare il testo attorno alla pagina ingrandiamo un attimo così lo vediamo ancora un po' più grande eccolo qua e adesso posso dire a sinistra no da qua con questo allineamento ancora no posso dire questo mi piace di solito vicino vedete che ora l'immagine prende la forma del testo la forma dell'anello cioè il testo gira attorno alla forma dell'immagine questo è molto bello qui adesso posso dirgli al centro allora tocchiamo l'immagine posso dire no non posso allinearlo di solito mi pareva di sì e vabbè la posso spostare però io la posso spostare a piacere queste immagini e fa un effetto molto bello c'è anche questo non so se funzionerà vediamo dentro no qui non funziona dove il testo dovrebbe passare dentro all'immagine ma in questo caso no insomma qui ho molte più opzioni ho anche vediamo se faccio tasto destro formato grafica e un sacco di opzioni in più per l'immagine correzione dell'immagine luminosità e contrasto quindi da qui potevo gestire le filigrane i riempimenti insomma più cose ovviamente è un altro è un altro discorso e questo programma è la versione a pagamento andiamo avanti allora la chat ho visto che si è spostata un po' spero di ritornare ritrovare il punto allora Leo sì Luigi sì Vincenzo devo dire che Office Online è molto efficace si possono fare tantissime cose sì e non abbiamo visto niente cioè non abbiamo visto niente abbiamo visto tante cose ci sarà una cosa che ci stupirà che è questo componenti aggiuntivi lo faremo in una delle prossime edizioni in uno dei prossimi video perché è veramente simpatico lo provavo ieri molto simpatico poi Edo come si può inserire il testo a fianco dell'immagine beh l'abbiamo visto qui non si riesce qui si può fare una tabella per gestire ma non è lo strumento adeguato qui invece abbiamo visto che si può fare un sacco di cose si può fare anche questo vediamo qua non ce l'ho ah devo andare in altro vediamo altro perché in altro ho più comandi disposizione testo non mi sbaglio non è qua ravvicinato incorniciato ah sì qui vabbè c'è il testo voglio che passi solo a sinistra solo a sinistra ok quindi il testo passa solo alla sinistra dell'immagine per cui posso mettere l'immagine a sinistra il testo ci passa a sinistra oppure con altro disposizione testo il testo solo a destra o sul lato più lungo ci sono tantissime cose che posso fare e quindi ora il testo passa solo sulla destra dell'immagine e di qua no ovviamente per un'immagine di questo tipo è più bello da tutte e due le pare allora poi Pietro problemi con la linea? no da noi è tutto a posto eccellente saluto John Antonella buonasera ciao a te Antonella allora Isaia bravo che sta dicendo Pietro premi F5 Edo ho fatto la domanda troppo presto ci sei arrivato ok comunque abbiamo approfondito noi Luigi per incorniciare un'immagine sono già presenti delle cornici in base fornite dal programma oppure devo scaricare una in formato trasparente PNG in modo che non mi copra l'immagine beh se vuoi fare una cornice con l'immagine l'unica cosa che abbiamo visto allora era quello il discorso della cornice era diverso quello che dicevi tu sono gli e dov'è qui su immagine se io in questo documento qua ormai l'ho un po' rovinato ah guarda anche questo intanto si è si è aggiornato perché stiamo lavorando sullo stesso questa immagine e cornici queste sono un po' delle cornici queste sono già pronte proprio da da essere da essere usate vediamo in questo caso dato che non era proprio un'immagine forse ci impiegherà un po' a incorniciarla o forse non ci riuscirà abbiamo visto che ci serviva l'immagine comunque qui le cornici ci sono già diversamente devi fare tu devi fare tu un lavoro col programma di grafica e mettere l'immagine in una cornice queste sono già belle e sono tante per cui direi che va bene così cancelliamo questo stile poi Orazia grazie Daniele bene mi fa piacere che tu stia imparando perché questo è lo scopo sapere almeno le basi di utilizzo di un programma di videoscrittura almeno uno poi alla fine funzionano tutti più o meno alla stessa maniera è importante Tiziano ciao a tutti allora Luigi grazie Daniele immagine filigrana dove le trovo che non abbiano il copyright allora immagini senza copyright il filigrana lo devi fare tu immagini che non abbiano il copyright io le cerco di solito su www.pixabay pixabay .it pixabay .it ah no ho sbagliato allora sarà .com www.pixabay .com perché ormai il mio computer ci va da solo sì eccolo qua queste sono immagini free libere da diritti d'autore potete scrivere un argomento e trovate immagini di ogni tipo fragola ed ecco qua vi serve una fragola ecco pronte immagini di ogni tipo della fragola anche col trasparente attorno eccetera disegni o altro premo qui leggo questo è l'autore della fragola che lo rende disponibile gratuitamente lo fa perché si fa un po' di pubblicità perché questo probabilmente è un autore anche di immagini a pagamento però qui decide di metterne un po' gratis anch'io ho messo il mio rubino si trova anche qui in mezzo l'ho messo anch'io gratuitamente chiunque può caricare un'immagine libera da diritti d'autore cioè una propria immagine che dice questa immagine la possono usare tutti e le persone la scaricano oppure può prenderle free download scelgo la dimensione ne ho parlato altre volte adesso ci andiamo al volo e ci siamo posto e non sono un robot c'era qualcosa da scrivere da leggere se era libera allora dico download in questo momento me l'ha aperto in inglese ma perché sto usando questo browser ma se ci andate col vostro computer lo vedrete in italiano e qui proprio potrete leggere libera per uso commerciale non è richiesta attribuzione cioè vuol dire che potete usarla anche per scopi commerciali e non c'è bisogno di citarne l'autore però poi qui c'è anche ci sono maggiori informazioni qui c'è pixabaylicense ora lo vediamo in inglese perché sto usando questo browser ma se ci andate lo trovate in italiano e leggetelo così vi rendete conto di quello che si può fare io quando mi capita le prendo qua le immagini e mi trovo bene poi ci sono anche versioni a pagamento con immagini ancora più professionali ok poi ciao Veronica mi piacciono i miei gatti è vero sono belli grazie dei complimenti Giovanni Veronica ah ok ho visto ancora ripetuto quello dei gatti ringrazio Gianni per l'uso della super chat no Giancarlo scusami per l'uso della super chat che per noi è importantissimo grazie Giancarlo vediamo se riesco a riprendere il filo da dove ero arrivato con con la con la chat e l'altro uno è Rubino l'altro è Lingotto tutti gatti preziosi Rubino e Lingotto hanno nomi di oggetti preziosi allora Edo con le due foto inserite mi sembra che manca una parte di testo è sparito ho fatto della confusione è difficoltoso in quella in quella versione online di gestire più immagini mentre invece qui qui no con questo è molto più facile posso inserire una seconda immagine con facilità allora vediamo questo dispositivo riprendiamo questo gatto eccolo qui li posso gestire con molta più facilità e anche posso gestirne l'uno sopra l'altro allora questa la metto davanti al testo così si muove ovunque e questa la voglio spostare sopra allora in formato porta avanti quindi questa immagine sta sopra a questa cosa che nella versione online non posso gestire perché non ho non ho la disponibilità ovviamente posso scambiarle si possono fare un sacco un sacco di cose potrei anche volendo vediamo ecco fare una cosa di questo genere potrei ritagliare l'altro insomma si possono fare un sacco un sacco di cose con questo allora Edo no Veronica Edo è quello che mi ha già chiesto Alessandro grazie del complimento consiglio di fare un video simile con LibreOffice Cloud troveresti molto interessante ma dai non sapevo neanche che esisteva io LibreOffice Cloud per cui grazie infinite Alessandro me lo segno visto che era gratis preferivo scaricarlo il LibreOffice però il Cloud ci dà la possibilità di lavorare senza averlo nel computer e magari anche quando siamo al momento sguarniti di un programma perché non è il nostro computer quello che stiamo usando possiamo lavorare lì andrò a vederlo grazie grazie infinite Alessandro allora poi John dice Daniele cambiando più volte le dimensioni dell'immagine non è che la roviniamo e quindi dovremmo reinserire le immagini originale importantissimo bravo John allora un'immagine originale inserita viene inserita e appare di una certa misura non posso ingrandirla più del 120% cioè se io la ingrandisco esageratamente oltre il 120% poi vedrò visivamente una sgranatura una sgranatura scusate l'immagine i pixel i puntini di cui è composta l'immagine sono quelli diciamo la quantità di pixel sono quelli acquisiti dalla macchina fotografica se io ingrandisco l'immagine e non può mettere più puntini il computer non li ha ingrandisce quelli che ci sono già ingrandisce i pixel quindi a una certa misura l'immagine sgrana e è brutta magari a video non ci si rende conto ma in stampa è particolarmente brutta quindi bisogna fare attenzione io posso diminuirne le dimensioni quindi aspettate che le spostiamo posso rimpicciolirla a piacere ma non posso ingrandirla oltre una certa misura di solito il 120% però fate una prova e vedete in stampa avete la realtà più che a video a video si vede se esagerate tanto quindi i pixel i quadratini si vedono esagerando tanto finora va anche abbastanza bene a volte come ci fa notare il nostro amico se io rimpicciolisco un'immagine perché la voglio rimpicciolire e poi la reingrandisco in alcuni programmi il fatto che io l'ho rimpicciolita e poi reingrandita la sgrana cioè quando l'ho rimpicciolita il programma aveva acquisito quella dimensione lì e poi ingrandendola la sgrana tanto anche se l'immagine di per sé è più grande qui non mi pare che ci sia il problema di questo genere su word però per sicurezza se vi accorgete di questo si cancella e si inserisce nuovamente la stessa immagine quella originale così avete già la misura più grande questo discorso non vale per le immagini disegnate le immagini disegnate questo che è un disegno sono vettoriali si chiamano o meglio di solito le immagini disegnate sono vettoriali se sono vettoriali come questa voi potete ingrandirla anche per chilometri perché il computer ricalcola cioè questa immagine è fonte di un disegno di una serie di punti geometrici di misure quindi quando voi la volete più grande il computer fa tutti i calcoli e la ridisegna più grande mentre invece se è un'immagine raster cioè tipo una fotografia ho fatto un disegno ma lo fotografo quello ha gli stessi problemi di una fotografia cioè è composto da pixel non da linee e punti quindi non può essere ingrandito all'infinito allora Giuseppe Daniele puoi parlarci di no mi dice se posso parlare dell'app immune non ancora perché non è uscita e finora sono tutte sono tutte cose per sentito dire di fatto nessuno l'ha vista perlomeno del pubblico io no e quindi che si può dire non si può dire niente finché finché non la vediamo non sappiamo non sappiamo cosa dire Fortunato ottima spiegazione grazie Fortunato Emanuele si possono inserire anche audio in Word direi di no in PowerPoint sì lo abbiamo fatto se segui il corso di PowerPoint c'è qui nel sito Amici di Maggiolina andiamo a vederlo se c'è nell'elenco si possono inserire anche file audio perché Word fa una stampa e quindi non riproduci un qualcosa di multimediale cioè non è che puoi sentire della musica su un foglio stampato Word ha lo scopo di stampare PowerPoint fa un sacchissimo di cose compreso un sacco sulle immagini e le cose che faccio in PowerPoint sulle immagini le faccio anche in Word sulle immagini perché PowerPoint e Word fanno parte dello stesso pacchetto Office quindi sono dello stesso programma così come pure Excel per cui se io mi guardo il corso di PowerPoint imparo a usare le immagini quando vado in Word quando vado in Excel si fa le stesse cose i comandi sono uguali perché il programma è della stessa famiglia allora poi vediamo come siamo ancora un paio di domande ciao Matteo Anto Daniele Edge su Windows 7 io non lo vedo ho sempre usato Chrome dove lo scarico? beh vai allora intanto non so se sia compatibile quindi dovrai vedere me lo direi tu vai su Google e scrivi Edge e lui ti magari lo si scarica il nuovo browser Microsoft Edge e poi ti dirà se è compatibile con 7 oppure no vediamo che c'è scritto qua allora Microsoft Edge è un browser web sviluppato da Microsoft mobile disponibile anche per Mac iOS Android e versioni di Windows successive a 7 quindi no su 7 non c'è ci sarà per eccolo qua sistema operativo Windows 10 8 no 7 c'è scritto quindi io proverei cerca Anto prova poi magari mi fai sapere mi mandi un Whatsapp o mi scrivi un email però leggendo qua sì è possibile poi Simon come faccio a togliere il mio account da un PC per togliere l'account dipende se mi stai chiedendo un account Windows o un account Google se vuoi un account Google ti basta semplicemente uscire dall'account non volevo farlo su questo dove lo posso fare? da nessuna parte in realtà vabbè lo faccio qua io vado su Google dico esci esco dal mio account e poi quando c'è qui accedi posso dire rimuovi un account e rimuovo Rubino Felino attenzione che non viene cancellato l'account semplicemente questo browser se ne dimentica io potrò reinserirlo vedi che qua dopo c'è ancora io posso cancellarlo ma se voglio posso andare a reinserirlo e me lo ritrovo quindi il rimuovere l'account in questo senso è toglierlo dal browser e non se ne ricorda più il browser quindi se il computer è di un'altra persona poi quando si siede quella persona non può più entrare nel tuo account questo è un discorso l'account del computer inteso questo il mio si chiama Daniele lo posso togliere ma devo crearne un altro prima creo un altro account con privilegi amministratore quindi non so Mario creo l'account Mario con privilegi amministratore quindi da Daniele vado dove si creano gli account basta che lo scriva qua account gestisci il tuo account vado dentro qui ne creo un altro poi spengo il computer rientro come Mario e da Mario chiedo di togliere Daniele se ho i privilegi amministratore viene tolto viene cancellato tutto quello che Daniele aveva messo dentro e basta e poi non c'è più se però dai via il computer non è più tuo non fare tutto questo lavoro formattalo perché cancella veramente tutto perché così si cancella ma se resta in casa mi sta bene se invece il computer deve essere dato a qualcun altro preferirei averlo formattato prima di darlo a qualcun altro allora poi l'ultimissima poi ci fermiamo ne prendo una a caso dai questa volta ecco intanto vedo Sergio che non manca mai il nostro videotecario corso Excel 24 importare dati grande Sergio grazie io faccio fatica a ricordarmi le cose ma abbiamo il nostro Sergio che ci aiuta ne prendo una a caso prendiamo l'ultimo sono saluti dai una a caso questo Paolo Lucia Sara prima di tutto complimenti grazie che ho fatto bene già a scegliere veramente molto bravo farai una lezione anche per gestire e modificare i vari tipi di elenchi sì i punti gli elenchi puntati e gli elenchi numerati sì forse è già la prossima domani dopo domani una delle prossime perché ormai di world online ci siamo detti già tante cose stiamo arrivando a quei dettagli che magari da soli non ci si arriva per cui sono interessanti ma sì parleremo anche di quello quindi ragazzi direi che ci siamo fatemi chiudere tutto qua e avere il nostro sito amici di Maggiolina sullo sfondo eccolo qua e vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questa giornata di festa ci vediamo per chi vuole domani sera alle 18 dove faremo qualcosa d'altro in diretta quindi avremo uno spazio parte diretta una parte delle vostre domande e ci faremo compagnia un po' come sempre in questi giorni mi vado a prendere la schermata dei saluti eccomi pronto ciao ragazzi grazie infinite a proposito grazie infinite delle super chat dei super sticker degli abbonamenti perché per noi sono un sostegno importantissimo senza quelli non potremo essere qui con questa assiduità ma grazie infinite anche per i mi piace se vi piace mettete un mi piace perché per noi sono importantissimi ciao grazie a tutti ciao ciao